Ho una richiesta. Devo vedere una persona. Sherlock Holmes. Signor Holmes, devi aprire gli occhi. Lei sottovaluta la gravità di quello che sta per accadere. Domani, a mezzogiorno, il mondo che conosci svanirà. Beh, allora non c'è tempo da perdere, giusto? Il testimone dichiara di aver visto Lord Blackwood alzarsi dalla tomba. Deve trovarlo e fermarlo. Spremerò tutta la mia non trascurabile esperienza. Per lei sarà anche un passatempo, signor Holmes. Per me è un mestiere. Fa una notevole differenza se posso avere a disposizione qualcuno su cui fare totale affidamento. È sempre un piacere, Watson. Non si era mai lamentato dei miei metodi. Non mi lamento mai. Mi lamento quando suona il violino alle tre di notte. Mi lamento del suo disordine, della sua scarsa igiene o del fatto che mi ruba i vestiti. Si comporti da signora! Holmes, non c'è nessun limite alla sua depravazione? No. Non c'è nessun limite alla sua. Watson, che cosa ha fatto? Madame, deve mantenere la calma. Si fidi, sono un professionista. Sotto questo cuscino c'è la chiave della mia liberazione.